Una donna di qualità non devi, intanto ringrazio Dalia, se tu vuoi essere una donna di qualità non devi assolutamente essere una donna gelosa, la gelosia è tipico delle sciampiste, soltanto le sciampiste sono gelose, soltanto le sciampiste hanno paura di essere diciamo tradite, perché tanto, diciamoci la verità, il tradimento è un qualcosa che, la paura del tradimento è un qualcosa che ti rende debole, ti rende fragile, non devi assolutamente temere il tradimento, non devi assolutamente temere nulla e soprattutto quello che non devi fare, quello che fa una donna di qualità non è andare a dire no, devi togliere le foto, ma c'è la foto, perché se tu esci, cioè hai una relazione con uno e questo ha le foto della ex magari sul profilo, che ne so, Instagram, TikTok o che cazzo ne so, Facebook e tu fai la gelosa, tieni presente che c'è una legge fondamentale che più antagonizzi con un antagonista più darai potenziale all'antagonista, cioè l'amante per dire, che dice al suo amante lascia tua moglie, lascia tua moglie, darà solo potenziale alla moglie e la moglie acquisirà ancora più potenziale o viceversa, la moglie che gli dice non vedere l'amante acquisirà più potenziale perché c'è una legge fondamentale, una legge universale, una sorta di legge gravitazionale che dice che ad ogni coercizione corrisponde una compulsione uguale e contraria cosa vuol dire coercizione compulsione? Vuol dire che se uno ti dice non devi far questo, non devi far quello non devi far quell'altro, tu tenderai a farlo, tenderai proprio a fare questo, quell'altro e quell'altro ancora ringrazio Rosa Rose, Rose e questo è un altro punto fondamentale se tu temi questo, non riuscirai a raggiungere nessun risultato questo è un qualcosa che devi tenere presente e invece le donne sono spesso gelose, no? addirittura sono gelose delle foto che uno posta magari, eh ma sul profilo, che ne so, profilo Whatsapp c'è ancora la foto assieme alla ex e tieni presente che la gelosia è una bagliare di cani che attiri l'aria cioè tutte le persone gelose automaticamente saranno cornute e il livello di corna sarà direttamente proporzionale al livello di gelosia cioè non esiste una persona gelosa che non è cornuta ma anzi io vi suggerisco questo se voi avete a che fare con una donna gelosa o con un uomo geloso fategli le corna fategli le corna perché le persone gelose da un punto di vista inconscio vogliono essere tradite quindi come si seduce una persona gelosa facendole le corna tradendola questo è una grande rivelazione sto diffondendo la buona novella ma è una verità le persone gelose le seduci facendogli le corna perché se tu gli fai le corna vai o comunque mettendogli il dubbio che tu possa fargli le corna vai proprio a stuzzicare vai a dare emozione perché la persona è gelosa la persona è gelosa perché si difende tende a difendersi dal come dire tende a difendersi dal fatto che dal fatto che qualcuno possa tradirla perché teme il fatto del tradimento gli dà emozione e quindi come fai a dargli un pacco e una sporta di emozioni facendogli le corna soltanto facendogli le corna o comunque facendogli intendere che potresti fargli le corna e la devi incrementare sta gelosia gli darai un botto di emozione molto forte questa è la rivelazione la rivelazione del secolo e quindi però tu se invece vuoi capire se invece vuoi capire cosa fa una persona basta che fai un accertamento cioè non è che c'è bisogno di essere geloso al giorno d'oggi non c'è bisogno di essere geloso e tutte le emozioni che si lamentano su instagram c'è ancora le foto con la ex su whatsapp c'è ancora la foto con la ex ma magari non l'ha vista magari non si ricorda magari non la toglie ecco tutte queste situazioni poi io il suggerimento che do se avete a che fare con una persona gelosa comunque lasciateli immediatamente perché le persone gelose tra l'altro nell'ambito di una relazione possono diventare stalker possono diventare tormentatori quindi dal mio punto di vista non starei mai con una persona gelosa se è una persona gelosa la lascio all'istante chiudo immediatamente la relazione non voglio assolutamente saperne di una persona gelosa quindi le persone gelose sono reiette sono persone che non vuole nessuno quindi toglietevele dai coglioni intanto poi se voi volete capire se una persona vi tradisce o meno non è che ci vuole molto a capirlo no, al giorno d'oggi è facile capirlo oppure se uno è sposato se uno è impegnato io sentivo storie ma io ho scoperto dopo tanto tempo che era sposato prima mi sono innamorato innamorata e non sapevo che fosse sposato l'ho scoperto mesi dopo che era sposato ma sei cretina ma come fa? ma solo una stupida riesce a non riesce a capire nel giro di una settimana che un uomo è sposato ma te ma metti due settimane basta che gli telefoni al sabato sera o la domenica pomeriggio e se lui ha il telefono spento o non ti risponde mai o non è disponibile mai a vederti il sabato sera la domenica pomeriggio è perché è sposato punto non c'è niente da fare poi c'è quello che può mimetizzare un po' meglio perché magari fa un lavoro di un certo tipo oppure quelli che hanno paura a farsi vedere in centro a mano nella mano nella loro città e questo è e ti portano sempre al parcheggio del cimitero periferico oppure ti portano sempre mai 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 guarda tu basta che vai nella loro città oppure non ti invitano mai a casa loro non sai dove abiti insomma come dire al giorno d'oggi a capire che una persona è sposata ci va veramente 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 poco è veramente banale eppure molte persone non lo vogliono capire non lo vogliono capire perché io lo amo io lo amo lo stesso anche se è sposato lui ama me ecco questo devi tenerlo presente se tu riesci a capire questi concetti riuscirai veramente riuscirai veramente a diventare la persona migliore e se poi si è una che fa con uno stalker che quelli che denun bisogna denunciare andare alle forze dell'ordine e denunciare gli stalker ovviamente questo è un dato di fatto no cioè perché ci sono anche donne che restano con uomini magari eccessivamente gelosi stalkerizzano allora quando viene superato il limite diciamo della libertà una persona non si sente più libera deve andare a denunciare ma subito deve farlo cioè è ovvio che ci sono le forze dell'ordine la polizia i carabinieri i cazzo ne so i magistrati rivolgersi a un avvocato che faccia questo insomma non ci sono altre possibilità d'altra parte bisognerebbe accorgersene prima che una persona bisognerebbe accorgersi prima che una persona è eccessivamente possessiva nel momento in cui te ne accorgi bisogna subito chiudere bisogna subito chiudere le relazioni le persone eccessivamente possessive gelose sia che siano uomini sia che siano donne sono sinceramente rompicoglioni per cui bisogna chiudere assolutamente bene allora soltanto in questo modo tu potrai diventare la persona migliore soltanto in questo modo tu potrai diventare la donna migliore la donna che tutti cercano non ci sono altre possibilità è vero la vita è una sola unica non va sprecata diciamo con persone che non ti danno quello che vuoi e questo devi tenerlo presente un fatto fondamentale la vita è veramente importante e quindi e quindi e quindi devi tenere presente questa cosa non puoi l'unico modo per diventare la donna migliore è quello di portare avanti diciamo il tuo benessere personale e la tua forza interiore bene nel frattempo seguimi su Instagram Massimo Terramasco ufficiale seguimi su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube iscriviti è gratis a tutti i miei canali YouTube